Giornata di lutto nazionale domenica in Russia. Tutti gli eventi di intrattenimento, i concerti sono stati cancellati, le bandiere russe sono state abbassate a mezz'asta. Il presidente russo Vladimir Putin domenica ha acceso delle candele per le vittime dell'attentato. L'attacco alla sala concerti Crocus City Hall di Mosca ha causato la morte di almeno 137 persone. Sono terminate le operazioni di soccorso mentre prosegue lo sgombero delle macerie sul luogo della tragedia. In Libano i residenti di Beirut si sono riuniti davanti all'ambasciata russa per rendere omaggio alle vittime dell'attentato. Anche l'ambasciatore russo a Beirut ha partecipato e ha acceso una candela in segno di omaggio definendo l'attacco un atto vile e spreggevole. Al momento sono quattro i responsabili materiali arrestati dalle autorità insieme ad altri 11 sospettati.